Amici, esattamente tre mesi fa vi ho deciso di fare una farm semi-automatica per Minecraft Bedrock Edition e funzionava. E adesso in centomila milioni mi state chiedendo su Instagram, nei commenti di YouTube, o bussandomi a casa, sì, bussandomi a casa per una farm automatica di pesca, se posso portare appunto un altro video di quella farm, o magari di un'altra nuova farm in caso ce ne fossero, di 4-5 minuti. Perciò in questo video quello che faremo, andremo a riprendere quello lì vecchio, che molti di voi sono sicuro che non hanno visto, quindi vi sto aiutando per fare una farm di pesca semi-automatica, e lo andremo a rifare senza perdere troppo tempo. Quindi signori, vi invito a lasciare un piaccio e commento, a condividere il video e iniziamo. Allora signori, tutto ciò che vi servirà, lo vedete qua nell'inventario, sarà un asse di legno, io ce l'avevo già nell'inventario, non è un casino, ma a me ne servirà solo uno, delle tramogge, hopper in inglese, pietra rossa, recinzione di quercia, sabbia, jukebox, pistone, lastro di legno di quercia e la pedana a pressione, e ovviamente un secchio d'acqua e delle ceste. Ma adesso signori, iniziamo subito a riprodurla alla veloce, per farvi capire bene. Iniziamo mettendo una doppia cesta e una tramoggia dietro, appunto, che però punta la cesta, altrimenti le robe non entreranno dentro e continueranno a cadere o rimarranno qui dentro. Sì, le otterrete lo stesso, però è un po' bruttino. Poi sopra la nostra tramoggia ci mettiamo la fence, pardon, e la pedana a pressione, tech, per ora facilissimo, semplice, semplice. E con le nostre assi di legno ricopriamo il tutto e saliamo di uno, perfetto. Vedete già che sta prendendo forma, per chi avesse visto il vecchio video, se la ricorderà facilmente, dato che è facilissima da fare e non vi servono neanche troppi materiali particolari per farla. Poi, qua sopra questo blocco, mettete il pezzo di redstone, che appunto andrà ad attivare tutto il meccanismo, e in parte dove non avete costruito niente parallelo alla cesta, ci mettete un blocco e poi il pistone rivolto verso l'alto. E ovviamente sopra il pistone ci dovete mettere il blocco di sabbia, perfetto. Mentre alla sinistra del blocco di sabbia ci mettete il jukebox e alla destra ci piazzate un'altra doppia cesta. Poi prendete gli slabettini che vi avevate craftati in precedenza, uno lo mettete sotto, uno qui davanti per bloccare poi la futura acqua, e un altro lo dobbiamo mettere qua sopra, vedete già che sta funzionando il meccanismo, se salite sulla pedana salirà il tutto, perfetto. Facile, facile, fattibile. La direzione della cesta, sceglietela voi, è indifferente. E ora per concludere puntate tra il blocco di sabbia e la cesta e ci mettete il blocco d'acqua, perfetto. Vedete che grazie al blocco che avete messo qui e anche questo qua sopra, l'acqua si bloccherà appunto e poi voi potrete pescare tranquillamente. Poi per rendere il tutto sia più carino che soprattutto più utile fate una sorta di muro qua dietro così quando andrete a pescare non vedrete appunto il dietro e si potrà pescare tranquillamente. Non so se sentitevi il rumore del blocco sonoro, comunque andate, pescate, 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 in teoria non vorrei farvi il taglio per far vedere appunto che funziona, però mi sa che sono costretto a farvi il taglio. Una volta pescato si abbasserà appunto il blocco di sabbia e tutto il meccanismo diciamo si spegne, e tra virgolette basta schiacciare l'L2, Stuck che vedete ci ha dato sia l'esperienza sia il pesce, qui vabbè avevo già robe pescate, comunque si può pescare tranquillamente e soprattutto con tutta la facilità del mondo e anche in un modo abbastanza divertente perché c'è pure la musichina quindi ti diverti anche. Vedete che lì si è abbassato, qua si è abbassato tutto, schiaccio l'L2, esperienza e basta, oddio quante pesci stupidi mi dà. Vabbè comunque vedete che funziona tra l'altro, c'ho anche fortuna del mare e tutto ma non stiamo trovando niente. Quindi l'ultima pescatina poi in caso ci salutiamo, sarà durato pochissimo questo video, questa farm ce l'avevo già da tantissimo tempo. Ok, peschiamo, dai dammi un libro. No, niente, ci continua a dare il merluzzo crudo, vabbè fa niente. Comunque questa era la valle delle farm, io l'altra l'avevo fatta lì ma ora la vado a distruggere, era solo per farvi vedere, preferito farvelo vedere qua nella solita valle delle farm e tra l'altro perché ne avevo fatte due, non mi ricordo perché ne avevo fatte due, ma le avevo fatte. Funziona anche questa, magari più fortunata? Dai questa è più fortuna, dai me lo sento per forza, questa è per forza più fortunata. No, assolutamente no, niente, gli piace pescare il merluzzo crudo. Vabbè signori, dopo vado a distruggere quella farm che era solo per farvi vedere, spero che abbiate capito come fare, cosa ci fa uno scheletro, vabbè lascia perdere. Io salvo ed esco come sempre un video molto veloce, mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Vi ringrazio per la visione, in caso vi invito, anzi di sicuro vi metterò nel primo commento il link del vecchio video, in caso qualcuno solo volesse andare a vedere, magari qui vi siete saltati qualche passaggio, non lo so. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani, al solito rovero due e un quarto, con un nuovo video. Ciao!